Oggi imparare l'inglese non è più un problema con Wall Street English. I percorsi Wall Street English sono personalizzati con orari flessibili fatti su misura proprio per te. Avrai a disposizione docenti madrelingua e un laboratorio linguistico multimediale per imparare l'inglese come se fossi all'estero. Entra nella scuola Wall Street English e scopri l'Inghilterra ad Ancona. Are you ready?